Il calcistico nel corridoio della tribuna d'onore, vai così, Roma-Palermo leggera e lebbrezza, nel frattempo il Sharawi fa una bella finezza, tribuna d'onore ma il match non decolla, alla mia sinistra c'è uno che rolla, punizione De Rossi e il Sharawi incrocia, siamo al ventesimo ma il match ora si infuoca, Salassa nell'aria, fiuta questa Roma, gol 1-0, primo tempo per la Roma, è la fine 4-1, vai così, guarda qua, G, 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 questo rapp è il calcistico, spacchiamo tutta, capito?